Ben trovati su Pubblica Piazza, ora ritorniamo ad una piazza che avevamo già fatto con un precedente confronto, è la piazza di Acri, oggi però è un confronto con un solo candidato, nonostante abbiamo invitato gli altri candidati, poi per una serie di ragioni hanno disertato questo confronto, ma come noi sempre facciamo, anche in presenza di un solo candidato, andiamo avanti perché, ripetiamo, il nostro è un servizio e come tale vogliamo renderlo. E con me, insomma, già presente nel precedente confronto di Acri, l'avvocato Maurizio Feraudo, volto noto non solo per Acri, ma è un politico che abbiamo conosciuto anche sul piano regionale, è stato consigliere regionale nella legislatura del 2005-2010, oggi, dopo qualche anno, diciamo così, di riposo, insomma, ritorna a mettersi in gioco, questa volta però, nella competizione elettorale come primo cittadino della sua città, che è Acri. Quindi, grazie a voi per avermi ospitato, come dicevamo, diventerà un confronto tra il giornalista e il candidato, insomma, gli altri candidati, ripetiamo, c'è stato un disgueto tecnico all'inizio di questa dimissione, di qualche minuto, diciamo, relativamente al montaggio degli impianti, dopodiché i candidati non hanno dato più disponibilità, gli altri candidati, a partecipare a questo confronto, che, ripetiamo, oltre all'avvocato Maurizio Feraudo, sono l'avvocato Pino Capalbo per lo schieramento di centro-sinistra, l'avvocato Mario, no, l'avvocato, il professor Mario Bonacci, altro dirigente della sinistra, oggi, diciamo, in area articolo 1 bersaniana, diciamo così, poi lo schieramento dei centristi guidato dalla dottoressa Vigliaturo e poi, appunto, Maurizio Feraudo. Andiamo, dunque, a, diciamo, capire un po' di quello che sta avvenendo. Allora, avvocato Feraudo, insomma, la campagna ormai è agli ultimi sgoccioli, insomma, come sempre avviene negli ultimi giorni, poi, le campagne si infervorano e quindi, diciamo, si va al concreto. Intanto, c'eravamo lasciato nel precedente confronto con tutta una serie di problematiche. Uno dei motivi, diciamo, di scontro era la famosa viadotto, la strada che, insomma, riguarda, appunto, l'arrivo qui ad Acre. Insomma, c'era stato un battibecco tra lei e Pino Capalbo anche in relazione al rapporto con il Presidente dell'Aggiunta regionale. Venendo qui, dobbiamo dire che è iniziato l'asfalto del viadotto, quindi, insomma, gli impegni rispettati, com'è il fatto? Intanto io ringrazio voi perché come emittente ci date voce e io penso che tutti i candidati a sindaco dovrebbero essere grati a un emittente che offre un servizio ai cittadini perché i cittadini dovrebbero essere informati di quello che è il programma, la proposta politica. E a fronte di questo mi dispiace che gli altri candidati a sindaco non hanno, diciamo, avuto la pazienza di offrire ai vostri spettatori quella che è la proposta di ciascuno dei candidati a sindaco. Penso che sia un fatto di rispetto verso l'emittente che ci dà questa opportunità, ma soprattutto verso i cittadini che possono ascoltare la voce dei candidati. Detto questo, guardate, c'è una cherella ad Acre su questo fatto delle grandi infrastrutture. Abbiamo detto che erano fondi strutturali europei dell'accordo di programma quadro infrastrutture che era stato approvato dal Consiglio regionale nel 2005 quando io ero Consiglio regionale, di cui ero stato il promotore di quel finanziamento. Però è un'opera, questa, della 6,60, della strada, del primo lotto funzionale della strada che deve bypassare una frana che c'è sulla strada per Cosenza. e quest'opera, questo finanziamento di oltre 20 milioni di euro avrebbe dovuto portare a completamento di questo lotto entro il 2011. Abbiamo già detto in più sede e l'abbiamo detto in tutti i modi, i lavori iniziati nel 2008 si sono fermati subito dopo, sono ripresi in occasione della campagna elettorale del 2010, subito dopo la campagna elettorale amministrativa del 2010 sono rifermati ancora una volta, sono stati riannunciati in Bombamagna nel 2013 quando Acre è tornato a votare ed è stato eletto il sindaco tenuta e subito dopo si sono fermati questi lavori. Oggi, guarda caso, i lavori sono ripresi, ma io dico che questa ripresa dei lavori conferma quello che io vado dicendo, che altro non è che un inganno verso i cittadini per racimolare qualche consenso, perché all'epoca il Presidente della provincia, Mario Oliverio, oggi Presidente della Giunta, ha sempre utilizzato questo metodo di ingannare i cittadini reclesi, facendo credere che quest'opera è lì per essere completata, ma le somme a disposizione sono state spese e l'opera ancora tarda a essere completata. Il fatto dell'asfalto, del guarderele che stanno... Quello è un insulto ai cittadini e agli elettori, all'intelligenza e all'indegnità dei cittadini reclesi, perché ancora manca il completamento della galleria, del tunnel, perché deve essere ancora appaltato tutto l'impianto di illuminazione, manca il tratto di strada tra il tunnel e il viadotto, però siccome venendo da Cosenza, il viadotto balza all'occhio immediatamente, quindi hanno pensato di asfaltare e mettere il guarderele per dimostrare che quell'opera è in fase di completamento. Io penso che i cittadini di Acre sono abbastanza intelligenti per capire che questa è l'ennesima presa in giro e la presa in giro deve essere trasformata in indignazione. Questa indignazione noi la dobbiamo portare nelle urne, perché votare queste persone, chi rappresenta questo modo di fare politica, penso che non ha rispetto per la città di Acre. Negli ultimi giorni è emerso, perché adesso dicevamo che la campagna è nel caldo della sua evoluzione. Ci spiego un po' questo ricorso alle sette liste di Capalbo? No, è stato un ricorso ad una lista, un ricorso perché secondo i legali che hanno avuto modo di visionare la documentazione della presentazione delle liste di Capalbo, tutte e sette presentavano grossolane incongruenze. Cioè presentavano, erano moduli raccolta firma autenticate dalla provincia, dai consiglieri provinciali, però erano stati tutti manomessi da timbri del comune di Acre. Addirittura presentavano problemi grossolane e incongruenze grossolane che secondo i legali che hanno approntato quel ricorso quelle liste non avevano titolo ad essere ammesse. Il Tar non ha deciso, ha semplicemente detto che questo ricorso non va presentato nella fase iniziale del procedimento elettorale, va presentato alla fine. Quindi sicuramente alla fine questo ricorso sarà riproposto e questo è un motivo in più perché i cittadini valutano bene a chi votare perché se i promotori di una collezione di liste hanno avuto problemi, o quantomeno non hanno rispettato quello che era l'iter burocratico per la prestazione delle liste, voglio dire, pensiamo bene pure che questi si accingono e si propongono per governare una città importante come Acre dai tanti problemi come Acre. Quindi significa che probabilmente anche queste persone la loro capacità di amministrare, di affrontare i problemi di Acre, io sinceramente nutro seri dubbi. Uno dei nodi, diciamo, anche su cui si articola la discussione sulla campagna elettorale è questa vicenda dell'ospedale. Per esempio il suo maggiore competitor, Capalbo, sostiene che in sostanza l'ospedale è migliorato, insomma alla fine insomma tutta una serie di cose vanno comunque verso il mantenimento di questa struttura diciamo abbastanza accettabile. Lei la pensa così? Guardate, se dobbiamo barare politicamente facciamolo pure, in danno dei cittadini. La realtà dell'ospedale di Acre è sotto gli occhi di tutti. Non è migliorato nulla. È come un malato terminale. L'ospedale di Acre, che era un ospedale che era un punto di riferimento per l'intero comprensorio, per l'intero territorio, aveva delle eccellenze anche in materia sanitaria, è stato man mano smandellato sia per volontà del Partito Democratico che è iniziato con la Giunta Loiero, l'abbiamo già detto in altre occasioni, sia soprattutto con Scopelliti e quindi con la Giunta ad Acre, Trematera e Maiorano, di cui la candidata a vigliaturo era assessore. Parleremo anche di questo, del dissesto. Importante. e hanno poi optato per questo Spock, l'ospedale Spock. L'ospedale Spock ha creato danni ad Acre perché sono state trasferite da Acre a Castrovilleri eccellenze, mi riferisco al personale infermieristico, medici, professori, primari, che sono state trasferite da Acre a Castrovilleri e anche le attrizzature sono state portate a Castrovilleri. Quindi questo ospedale Spock non ha fatto altro che impoverire un territorio che soffre in termini di viabilità perché noi siamo un comune isolato anche rispetto a Castrovilleri perché Castrovilleri ha un sistema viario diverso e quindi la nostra realtà non è paragonabile a quella di altre realtà. Quindi ritengo che la battaglia che va fatta e il sindaco si deporrà, io si diventerò sindaco, mi porrà a capo di una battaglia forte affinché l'ospedale di Acre ritorna ad essere ospedale generale. Spesso le contestano insomma in qualche modo di essere il continuatore dell'amministrazione di Tenuta per il fatto che insomma ci siano diverse esponenti di quella maggioranza tra i candidati delle sue liste. Come risponde a questo? Allora il sindaco Tenuta che è stato sfiduciato mi sostiene, ha dichiarato pubblicamente in un pubblico comizio in una piazza agremita l'abbiamo ha fatto chiarezza abbiamo fatto chiarezza con i cittadini di Acre con gli elettori sostiene questo mio progetto un progetto ovviamente con un progetto di rilancio di un'azione amministrativa che era stata intraprese e che tante cose buone ha fatto in questo territorio quindi voglio dire il sostegno ma io ho una mia autonomia io ho un mio modo di agire che sicuramente non è quello di essere la prosecuzione di chi che sia né tanto meno del sindaco Tenuta indubbiamente le cose positive che quell'amministrazione ha avviato ce ne sono tante è stata avviata ed è arrivata anche ad una percentuale molto alta la differenziata la raccolta differenziata perché quando si è insediato quel sindaco ad Acre c'erano i cumuli di immondizia che diciamo avevano invaso tutte le strade oggi abbiamo una raccolta differenziata che un viola l'occhiello ha raggiunto circa il 65% è stato avviato il finanziamento per la realizzazione della casa degli anziani 700 mila euro è stato avviato un finanziamento è stato pronto un finanziamento per il rifacimento della rete fognaria e di depurazione su tutto il territorio noi abbiamo un territorio vastissimo con frazioni che diciamo sono distante dal centro urbano molti chilometri eppure abbiamo un finanziamento pronto per essere utilizzato per rifare la fognatura ci sono una serie di questioni che sono state poste sul tappeto ovviamente queste cose io se dovesse andare le continuerò e cercano di valorizzare perché l'errore più grande è quello che hanno fatto in passato quando andava la nuova amministrazione doveva capovolgere e stavolgere quello che era nei progetti della precedente amministrazione già questo sta succedendo perché a fronte della ho detto prima della differenziata quindi di una ditta di una società privata che cura la differenziata in maniera efficiente perché se i risultati e i dati sono quelli il 65% dopo circa tre anni in cui è stata avviata la raccolta differenziata e dicono che sarà smandellata questa società privata perché sarà gestita direttamente dal comune quindi ecco questo modo di ribaltare quello che hanno fatto i precedenti diciamo sindaci non va bene perché a pagare le conseguenze sono sempre soltanto i cittadini noi le cose positive le porteremo avanti ovviamente accanto a questo abbiamo un progetto tutto nuovo per la città che deve partire dal considerare quella che è la situazione economica di questo paese ci sono molte sarginesche chiuse attività che stanno chiudendo e l'attività diciamo l'azione amministrativa deve essere incentrata soprattutto per recuperare diciamo un sistema economico una filiera economica che possa fare tornare Acre ad essere punto di riferimento per l'intero noi abbiamo molti paesi che gravitavano e devono tornare ad avere Acre come punto di riferimento lei ritornando un po' nella discussione dell'ospedale ma non insomma ha fatto un'affermazione letto da qualche parte in cui sostanzialmente ha detto che i politici potenti hanno invitato a non diciamo in qualche modo hanno impedito che i cittadini di Acre protestassero e protestassero secondo le cose e l'abbiamo detto l'abbiamo già detto cioè immaginate che che è successo io nel 2012 non ero più consigliere regionale avevo un ruolo nel mio partito un ruolo di dirigente e organizzai una manifestazione contro i primi segnali di ridimensionamento dell'ospedale di Acre nel 2012 quella manifestazione diciamo non ha avuto il consenso che meritava una protesta del genere perché in quegli stessi giorni l'allora senatore o mi pare il parlamentare europeo Trematerra aveva diciamo riempito i muri della città con un manifesto in cui rassicurava i cittadini che l'ospedale non sarebbe stato ridimensionato ma che anzi sarebbe stato potenziato diciamo il risultato è sotto gli occhi di tutti l'ospedale è ridotto al lumicino e anche quell'amministrazione che era da lui guidata peraltro per tre anni dal 2010 al 2013 perché dopo aver ricevuto il consenso dei cittadini ha deciso di lasciare la città di Acre per andare a sedere altrove quindi anche quell'amministrazione non ha fatto nulla a livello di iniziative giudiziarie per difendere l'ospedale di Acre ci sono state altre amministrazioni ho letto di recente che Praia Mare avrà la riapertura dell'ospedale perché il Consiglio di Stato lo ha definitivamente riaperto significa che c'è stata una vicenda giudiziaria che ha dato ragione alla città di Praia Mare noi questo risultato non l'abbiamo conseguito perché a Monte non c'è stata nessuna azione giudiziaria quindi quelli che avrebbero avuto il dovere morale politico anche morale perché ad Acre è un fatto anche oltre politico l'ospedale era un bene da difendere perché si tratta della salute dei cittadini quindi non hanno avviato nulla questo è da aggiungere che quel partito l'Udc che oggi peraltro è il primo partito che noi troviamo a sostegno dalla candidata sindaco Vigliaturo quindi con lo stesso simbolo quel partito che governava la città di Acre era anche un socio di maggioranza della giunta Scopelliti io ritengo che se avessero fatto leva politica sul presidente della regione Scopelliti che era commissario alla sanità probabilmente le sorti di questo paese e dell'ospedale di Acre sarebbero state diverse quindi non c'è stata nessuna volontà né politica né amministrativa di salvare l'ospedale di Acre l'hanno ridotto in queste condizioni le responsabilità non sono dei sindaci ma non sarà nemmeno il sindaco a poter riaprirlo però di sicuro il sindaco dovrà fare una battaglia forte perché la questione sanitaria ad Acre è una questione seria e molto delicata lei prima diciamo nello spiegare diciamo cosa la lega diciamo all'amministrazione uscente insomma è importante capire tenuta crolla cioè viene fatto cadere viene sfiduciato a suo avviso non perché lei fosse diciamo uno però a suo avviso nella sua valutazione politica cosa produce la caduta di tenuta intanto io non sono il difensore di tenuta di che che sia io mi ripropongo diciamo come elemento di novità all'interno di questo contesto amministrativo del comune di Acre e tenuta era stato eletto diciamo avevo già superato il primo turno con il 70% dei voti in più rispetto alle sue liste ha stravinto poi al ballottaggio diciamo rispetto addirittura a tutto il centro-sinistra unito e io ritengo che un'amministrazione non può essere sfiduciata da uno due o tre consiglieri perché il sistema delle elezioni nei comuni oltre i 15 mila abitanti è quella delle elezioni dirette del sindaco sono i cittadini che eleggono il loro sindaco e si portano dietro la maggioranza del consiglio comunale quindi a valutare o giudicare il sindaco doveva essere il corpo elettorale gli elettori al momento in cui si sarebbe ritornato al voto l'hanno fatto ovviamente si assumono le loro responsabilità perché questo ha determinato e vengo alla risposta ha determinato il commissariamento un commissariamento che sta creando molti danni Acre in questo periodo è molto più disordenato rispetto a prima c'è molto verde che non è curato perché vuoi dire è chiaro manca l'azione politica c'è l'incidenza su quelle che sono i tributi mi dicono che questo commissario per esigenze di carattere ovviamente contabile per fare quadrare i conti del comune ha già aumentato i tributi sia dell'acqua che della spazzatura quindi sicuramente questo commissariamento sta portando un danno alle tasche dei cittadini anche perché quell'amministrazione quel consiglio comunale aveva approvato una delibera a gennaio che aveva diciamo fissato le tariffe aveva stabilito che quelle tariffe non sarebbero state aumentate il commissario fa un lavoro che è diciamo un burocrate non è un politico e i diciamo queste conseguenze negative per le tasche dei cittadini sono da ricondurre a questa diciamo sfiducia che ha portato al commissarimento della città di Acre c'è una polemica che riguarda tutti insomma rispetto alle responsabilità di una delle candidate state in campo la vigliaturo la dottoressa vigliaturo in relazione al dissesto lei obietta il dissesto è frutto di vent'anni di politiche diciamo di cattiva gestione finanziaria e amministrativa lei che valutazione dà su questo? Io faccio una valutazione che è quella della sendenza della Corte dei Conti la Corte dei Conti ha detto che il dissesto diciamo si è prodotto negli anni dal 2007 al 2012 ed è stato dichiarato sulla base del bilancio del 2011 allora questo è uno dei motivi per cui ho detto nelle piazze che gli altri tre candidati a sindaco sia Capalbo sia Vigliaturo sia Bonacci non hanno legittimazione politico-amministrativa per riguardare questa città perché ognuno di loro ha delle responsabilità ciascuno per la sua parte nella diciamo situazione finanziaria in cui si trova talente perché nel 2007 e fino al 2010 il Bonacci era assessore al bilancio di una giunta a guida PD e il candidato Capalbo era capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale quindi non sono esenti da responsabilità perché da allora è iniziato diciamo la fase di smandellamento finanziario delle casse comunali nel 2010 è entrato in Consiglio Comunale Trematerra la giunta a Trematerra con assessore al bilancio l'attuale candidato al sindaco Vigliaturo ed è quella che ha redatto questo bilancio sulla base del quale è stato dichiarato il dissesto ma la Corte dei Conti dice un'altra cosa importante che sui bilancio 2011-2012 che sono quelli redatti dall'assessore Vigliaturo sono state riscontrate enormi anomalie diciamo perché riguarda anche i debiti fuori bilancio c'è stata una spesa fuori controllo ci sono state fatte spese di una disinvoltura che hanno messo l'ente in ginocchio hanno lasciato 25 milioni di debito cioè il dissesto è stato dichiarato per 25 milioni di euro ma e questo è successo in tre anni perché questi signori hanno governato solo per tre anni perché poi hanno pensato bene di lasciare l'amministrazione di cui avevano avuto la fiducia dei cittadini e quindi per ambizioni diverse quindi da una parte è stata una fortuna per la città di Acre perché altri due anni di quella gestione scelerata probabilmente avrebbe portato conseguenze molto più disastrose il dato è questo che nel 2013 i debiti erano di 25 milioni di euro la giunta tenuta sfiduciata qualche mese fa ha lasciato diciamo un bilancio diverso che è quello di abbiamo 16 milioni di euro in attivo e a fronte di 8 milioni di passività questo significa che comunque c'è un attivo di 8 milioni di euro e quindi significa che quella giunta ha operato comunque bene e ha lavorato per risalare le casse del municipio e allora su questo ovviamente il confronto è molto duro perché chi ha causato quel danno e mi riferisco alla dottoressa Veiaturo che in più occasioni va dicendo che la responsabilità è da attribuire al sindaco tenuta che con il suo piano di riequilibrio non è riuscito a salvare lei dice addirittura che loro hanno pagato debiti fuori bilancio fin dal 1994 no i debiti sono stati accumulati dal 2007 anche perché le altre amministrazioni 20 anni fa addirittura voglio dire sono slogan elettorale il dato il dato numerico è questo il dato gli anni sono questi e devo dire che nel nel 2013 questi 25 milioni di euro lasciati di debito e la candidata Veiaturo attribuisce la responsabilità del fallimento del comune perché di un fallimento si tratta il dissesto ed attribuire al sindaco tenuta che non è riuscito con il piano di riequilibrio a salvare il comune dal dissesto io ho fatto un paragone è come se una persona diciamo accoltella un altro viene accoltellato va all'ospedale moribondo i medici non riescono a salvarlo perché non c'è più possibilità di salvezza quella persona muore e viene data la responsabilità ai sanitari che non l'hanno salvato la responsabilità di quell'omicidio è solo e soltanto di chi ha accoltellato la persona in questo caso la responsabilità del dissesto del comune di Acre è solo ed esclusivamente della giunta Trematerra Maiorano di cui la vigliatura era assessore al bilancio e quindi questo a me diciamo mi preoccupa se chi è stato responsabile di un guasto così enorme per la città di Acre oggi si ripropone come con lei o come con loro perché poi bisogna anche capire chi c'è dietro a queste candidature si ripropongono per risollevare Acre da questa situazione disastrosa uno dei punti critici di Acre è l'emergenza idrica l'emergenza idrica ancora in questi giorni ancora in questi giorni come intende lei risolvere è uno dei punti mi fa piacere che entriamo anche nei punti programmatici è uno dei punti inseriti nel mio programma l'amministrazione tenuta ha fatto una mappatura di quelle che sono le criticità della rete idrica del territorio noi abbiamo un territorio molto vasto però abbiamo siccome siamo paesi di montagna abbiamo anche diciamo abbondanza di acqua e allora bisogna fare in modo che quelle criticità riscontrate e c'è la mappatura si ponga mano a queste criticità per soddisfare il fabbisogno idrico di tutto il territorio io sto sentendo che in questi giorni ci sono ad acri problemi seri anche in alcune zone molto gravi che riguardano la carenza idrica e indubbiamente questo è un altro problema legato al commissariamento se ci fosse stata un'amministrazione politica probabilmente la risposta sarebbe già arrivata il commissario che ripeto non ha nulla di politico magari per fare quadrare i conti diciamo dedica proprio poca attenzione ai bisogni fondamentali della cittadinanza io dico che il fabbisogno idrico è uno dei punti principioritari del mio programma per i prossimi anni se dovesse essere eletto quali altri punti caratterizzanti del suo programma ma intanto diciamo il fulcro di tutto il programma è fare ripartire Acre dal punto di vista economico noi abbiamo grandi risorse abbiamo delle risorse e delle eccellenze una grande risorsa per quello che mi riguarda è il centro storico di Acre il centro storico che è opportunamente valorizzato ma in maniera seria dove vanno trasferite e va favorita la riapertura di attività produttive mediante l'esonero del pagamento dei tributi deve essere coniugato con una politica a favore della valorizzazione dei prodotti tipici e cresi non solo enogastronomici ma anche artigianali tutto questo in un contesto di turismo religioso perché noi abbiamo ad Acre delle risorse importanti che sono il Beato Francesco Maria Greco e il Beato Angelo che il 15 ottobre quindi da qui a due o tre mesi sarà proclamato santo quindi da là bisogna partire per fare in modo che la città di Acre con il centro storico con le risorse enogastronomiche artigianali con le sue eccellenze con il suo patrimonio culturale letterario Padula Vincenzo Padula e quant'altro con anche abbiamo due fiumi che sono un gioiellino là vanno realizzati dei parchi fluviali attrezzati cioè Acre può diventare un attrattore e deve diventare un attrattore non solo turistico ma anche per recuperare un rapporto sociale nuovo e diverso che riesca a convogliare in questo territorio quante più persone possibili dall'intero comprensorio dall'intera provincia perché la gente se c'è una proposta un'offerta turistico gastronomica culturale la gente si sposta e quindi Acre ha tutti i presupposti perché questa vocazione possa essere concretizzata siamo alla battuta finale diciamo di questa mezz'ora dedicata diciamo a questo confronto tra me e lei sul suo programma e sulle questioni elettorali a questo punto se lei dovesse sintetizzare con delle parole d'ordine a questo punto alla sua città perché gli acresi dovrebbero votare Maurizio Feraudo ma guardate è una scelta obbligata votare Maurizio Feraudo perché gli altri tre candidati a sindaco l'ho detto nelle piazze sono un film già visto in questa città un film tragico un film tragico perché hanno determinato quello che è diciamo il degrado economico e anche sociale di questa città e hanno dimostrato di non voler bene a questa città ognuno con le proprie responsabilità quindi a fronte di quel film già visto io mi propongo come un film in prima visione nuovo un film nuovo tutto da vedere perché voglio dire io non ho riferimenti o non sono subalterno a nessuno né tantomeno dovrò utilizzare la macchina comunale per trovare e fare avere consensi a questo o a quel riferimento sovracomunale noi dobbiamo impegnarci tutti insieme per questo avevo lanciato il patto per la città un patto per la città in cui tutti anche le opposizioni ovviamente nel rispetto dei ruoli di ognuno dobbiamo fare la nostra parte rimboccarci le maniche perché abbiamo bisogno di collaborare tutti però in un contesto che è quello di un obiettivo quello di risolvere anche da questo declino e questo è possibile solo se guardiamo oltre le esperienze passate perché votare Maurizio Ferraudi significa guardare avanti votare gli altri candidati al sindaco vuol dire fare Faradacri un balzo indietro che è un balzo veramente che significerebbe la morte definitiva di questa città bene abbiamo cercato di focalizzare con Maurizio Ferraudi candidato a sindaco per il raggruppamento noi siamo delle liste civiche cittadini in movimento progetto Europa e cattolici progressisti sono tre liste civiche in cui sono comprese diciamo candidati di tutte le appartenenze ideologiche ma siccome ritengo e sono convinto che i problemi amministrativi della città si possono risolvere senza ricorrere alle ideologie anzi le ideologie spesso creano contrapposizioni noi lavoreremo in sinergia con i cittadini e per i cittadini quindi dateci fiducia perché altri cinque anni diciamo di di condizione di declino così come l'abbiamo avuto nel passato significa veramente non dare più speranza ai nostri figli noi lavoreremo in questa direzione bene il messaggio di Maurizio Ferraudo abbiamo cercato di tirarlo fuori con le nostre domande ripetiamo erano invitati anche gli altri candidati che hanno ritenuto non venire a questo confronto però noi abbiamo dato voce a chi si è presentato in questo caso il candidato Maurizio Ferraudo speriamo di avere il tempo per ritornare ad Acri se ci saranno le condizioni lo faremo ecco qui da Acri è tutto buonanotte grazie a tutti Grazie a tutti.